Ciao, oggi sei a Francavilla al mare, precisamente in via Antinori. Ci troviamo ospiti di questo appartamento al primo piano. Grazie alla tecnologia a disposizione, quindi al 360 gradi, potete spostare con il dito sul cellulare o mouse in modalità computer. Vediamo subito le peculiarità di questa camera da letto, di una delle tre camere da letto, quella matrimoniale. Vediamo subito le dimensioni. In questa direzione circa 4 metri. Nella direzione ortogonale opposta alla precedente abbiamo circa 3 metri e 60. Anche questa, come le altre tre, hanno il doppio balcone a taglio termico con l'uscita sul terrazzo esclusivo. Per tutte le altre informazioni e per fissare una visita sull'appartamento, vi rimando sul sito www.cholficasa.it